buonasera ragazzi questa sera vi mostro una delle ultime attivazioni che abbiamo effettuato e vi spiego un attimo il funzionamento è un'attivazione che può essere fatta effettuata soltanto per chi ha il keyless con il portellone elettrico quante volte vi è capitato di scendere dalla macchina andare nel portellone prendere le buste della spesa chiudere il portellone con il tasso del del temporizzatore e dopo dover chiudere con il dito sul sensore per chiudere la macchina con le buste in mano sempre molto scomodo a rischio anche di raffiare la la carrozzeria della macchina a questo ci abbiamo pensato noi e adesso vi spiego il funzionamento di questa attivazione eccoci qua siamo in macchina siamo rientrati spengiamo la macchina apriamo con il tasto il bagagliaglio il bagagliaglio è aperto chiudiamo la macchina ovviamente la macchina è aperta come vedete è aperta il bagagliaglio prendiamo le nostre cosine a questo punto sentite la differenza andiamo a chiudere il bagagliaio con il tasto easy open se avete sentito la chiusura centralizzata è scattata il bagagliaglio si è chiuso e la macchina è chiusa adesso poggio le chiavi a distanza in modo tale che vado anche nella portiera e la macchina è chiusa un'attivazione veramente veramente comoda spero vi sia piaciuto il video mettete un like e alla prossima attivazione ciao 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 ciao